12 milioni di euro per il 2021 e almeno 14 per il 2022 sono i fondi di cui beneficeranno dirigenti della sanità abruzzese. Secondo quanto stanziato dal decreto Calabria del 2019 e dal decreto Calabria bis del 2020, l'Abruzzo, dopo il Veneto, sarà la seconda regione ad applicare la norma sulla retribuzione aggiuntiva. Queste leggi non fanno altro, a che volta che a portare un po' più di soldi, ma introducono una nuova mentalità nei riguardi delle amministrazioni delle aziende sanitarie e questo è il vero successo della legge. Siamo fra gli stipendi più bassi d'Europa, malgrado gli output intesi risultati sul servizio sanitario nazionale siano fra i migliori al mondo. Pensate che l'associazione Fondazione Bloomberg internazionale, che è quella che redige il rating dei migliori servizi sanitari, in base ai risultati e alla spesa, ci mette al secondo posto. Spendiamo di meno degli altri, abbiamo dei risultati sulla salute migliore degli altri. Ora si dovrà procedere alla ripartizione della somma tra le quattro asla abruzzesi. La situazione finanziaria non è delle più rose, ha dichiarato l'assessore Veri. Stiamo mettendo da parte i soldi destinati ai medici. Siamo una regione in piano di rientro e abbiamo dovuto anche chiudere un bilancio nel 2021, non certo in maniera facile, in modo facile, perché avevamo un disavanzo molto alto per i costi covid. Però il mio primo pensiero dal momento in cui mi sono insediato è quella di porre un'attenzione ai medici e tutti i sanitari della nostra regione. E quindi ho messo come primo obiettivo quello di mettere i fondi da parte, definiamoli così, quindi finalizzare quei 12 milioni per dare questi fondi aggiuntivi, secondo il decreto Calabria, a tutti i medici della nostra regione.